Ma partiamo subito a parlare dell'argomento principale di oggi, quello primario, parliamo della quotazione di Birkenstock. Cosa ne pensi? Beh, quotazione che non è andata molto bene, non è piaciuta particolarmente agli investitori, un'ennesima IPO mi verrebbe da dire che in realtà non è andata a buon fine, come sempre specifichiamo un attimino di che cosa stiamo parlando. Immagino che bene o male tutti quanti conoscono che cos'è Birkenstock, che cosa fa l'azienda, come l'ha definita giustamente anche Pasquale, le scarpe più brutte che esistono. Per quanto in realtà l'azienda vada molto bene a livello di vendite, soprattutto poi quest'anno ha visto una certa rinascita dai ragazzi, il che è particolarmente strano. Comunque, l'azienda si è quotata, l'azienda nasce come compagnia tedesca a conduzione familiare, per poi essere venduta a un fondo che per chi è addentro al lavoro del mercato del lusso conoscerà, il fondo di Catterton, di proprietà di Arnault, ossia il CEO di Louis Vuitton, comunque della holding all'interno di Louis Vuitton, ossia la più grande casa di moda al mondo intesa come holding. Per cui vedere la quotazione di questa azienda è stata sicuramente molto interessante, soprattutto perché stiamo parlando di una quotazione di un'azienda che rimane però in capo come centro di controllo, in capo al forno di Arnault, quindi al fondo di Louis Vuitton. Circa l'83% dell'azienda è ancora in mano a questo fondo di investimenti di un'azienda che per quanto riguarda il mercato del lusso ha sicuramente dimostrato di essere uno dei top player al mondo, se non altro è la più grande azienda sul mercato europeo, stiamo parlando. Comunque, al netto di questo, l'IPO si è quotata e ti condivido lo schermo per farti vedere come è andata, non è andata particolarmente bene, non era quello che ovviamente la gente si aspettava. L'IPO all'apertura, nel mercato all'apertura, nella prima giornata di mercato, siamo scesi sui 38, siamo arrivati ai 36 dollari per poi attestarsi allo stato attuale delle cose sui 38 dollari, ovviamente il mercato americano, qui stiamo parlando. La quotazione in realtà era partita, doveva partire in maniera diversa, c'è stata una forte flessione, come vediamo all'inizio, il prezzo è partito a 41 anche se proprio inizialmente l'IPO dava l'azienda a quotarsi a circa 46 dollari d'azione. Per cui già era partita male dal punto di vista di apertura e poi dal momento dell'apertura della quotazione si è parecchia abbassata. Devo dire la verità, non è una cosa inusuale, una flessione del 12% in tre giorni non è proprio il massimo che ci si aspettava. Non è una cosa inusuale, tanto che le IPO storicamente, mi verrebbe quasi da dire, hanno dimostrato diverse criticità, ne ricordiamo diverse. Per cui, ora, parlare di come si muoverà l'azienda da qui in avanti è molto presto, con la pubblicazione dei bilanci possiamo vedere come ci si sta muovendo. Stiamo comunque parlando di un'azienda estremamente solida, in capo ad uno dei, come dicevo, i top player sul mercato, vediamo un attimino come ci si muove. È interessante però vedere questa grande, grande discesa ai tre giorni di apertura. Ed è infatti un argomento di cui trattare, grande attenzione quando si investe nell'epio, quando si investe nelle offerte pubbliche iniziali, quando un'azienda si quota in borsa. Pasquale, se vuoi aggiungere qualcosa? Sì, esatto, come si dice, per i primi sei mesi non bisognerebbe farlo perché per i primi sei mesi c'è un'obbligatorietà per gli acquirenti di tenere le quote per almeno sei mesi, quelli istituzionali, quelli che fanno il primo ingresso nel mercato primario. Per cui in quel periodo, da quel periodo in poi, quando tutti scaricano, caricano le proprie proposizioni, bisogna stare fermi. Questo è quello che si consiglia di fare. Poi ovviamente ognuno con i propri soldi faccia quello che vuole, però il consiglio che da buon padre di famiglia si può dare, non avere mai la fretta perché la gatta ha fatto i gattini ciechi. Un consiglio che sempre do quando si vuole, dipende molto dal tipo di investimento, dallo stile, passatemi il termine di investimento, termine bruttissimo, ma per comprendere, quando si va ad analizzare, ad esempio, si ha un approccio più fondamentale basato sull'analisi dell'azienda, tendenzialmente è molto meglio, come dice Pasquale, prendersi il tempo di studiare effettivamente i bilanci appena pubblicati, tutte le carte in tavola, per poi magari aspettare quella grande risalita, ma avere la tranquillità di poter comprendere la reale natura dell'azienda. Ovviamente non sono consigli finanziari, ci mancherebbe altro. Ma al di là di questo, come la vedi come mercato? Perché io leggevo di recente che molte di quelle aziende produttrici di scarpe che si sono andate a quotare hanno avuti tutti una pessima esperienza sul mercato azionale. Sì, è vero, non sarebbe il primo caso, effettivamente. Va detta una cosa, Birkestock, tra, mettiamola così, non sono particolarmente affine all'idea, però è catalogata come mercato del lusso. E quindi va catalogata e avendo la conduzione anche del CEO di Louis Vuitton, si dovrebbe calare, a mio parere, in un contesto diverso, non facendo troppo riferimento al mercato delle scarpe, ma paradossalmente più seguendo l'andamento del mercato dell'abbigliamento settore lusso. In quel caso bisogna dire che il mercato ha dimostrato di avere grande predilezione per questo tipo di settore, perché, lo sappiamo benissimo, margini molto alti, vendite contenute, una stabilità anche nei momenti di crisi. Ecco, in quel caso, se dovesse in realtà Birkestock confermarsi all'interno di quella determinata area di mercato, potrebbe avere un destino diverso rispetto a quello che è stata la produzione, le aziende produttrici di scarpe. Anche perché, come c'è sempre quel modo di dire, i ricchi non sentono la crisi, per cui chi vuole comprare un paio di scarpe di Birkestock, che non ho idee, non voglio neanche saperlo, quanto possano costare, comunque non dovrà mai dire, ah, devo pagare le bollette questo mese. Beh, assolutamente. Cioè, tengo a dire una cosa, per tutti quanti coloro i quali vogliano seguire l'azienda, indubbiamente c'è una correlazione, o comunque è molto plausibile che vi sia una correlazione con l'azienda madre di Louis Vuitton, LVMH, scusate, per essere precisi, la quale ha rilasciato delle trimestrali che non hanno particolarmente convinto, ha avuto una flessione, anche quello probabilmente è stato complice della flessione di Birkestock, da qui a dire che vi è una vera e propria correlazione, ce ne passa, ma indubbiamente il prezzo di una può impattare, il prezzo della madre può impattare sul prezzo della figlia molto giovane appena entrata sul mercato. Sì. Quello così. Va bene, quindi seguiremo questa azienda un po' più da vicino, magari per chi fosse interessato ad avere anche un'analisi approfondita dell'azienda, se volessi lasciarlo scritto nei commenti, con molto piacere lo andiamo a fare, magari lo faremo in futuro io e Daniele Assieme, oppure o io o lui sui nostri canali, e vi ricordo, iscrivetevi anche al canale di Daniele, che ce n'ha uno, anche lui, insomma. Grazie.